Allora, riflessione più approfondita sulla situazione Juventus-Napoli. Allora, ieri Sport Italia ha comunicato che la partita tra Juventus e Napoli si rigiocherà. Il Napoli vincere il ricorso. Ora non so se è vero o non è vero. Secondo me c'è una differenza molto importante a dire che si giocherà, che comunque il Napoli vince il ricorso. C'è una differenza molto grande, c'è una differenza quasi abissale come cosa. Allora, quindi Sport Italia ha lanciato questa bomba, la partita si rigiocherà, il Napoli avrà strada spianata perché la Juve non si è presentata in giudizio e quindi se il Napoli presenta il ricorso ed è bravo a convincere il giudice Mastrandrea che comunque è l'autorità e non è andato a Torino per causa di forza maggiore, allora il Napoli potrà rigiocare la partita contro la Juventus e magari spaccargli un po' il di dietro. Allora, io ho visto un video di De Luca, ragazzi, che parlava che era intervenuto su Juventus-Napoli. Quindi dice, se il Napoli non è stato bloccato dall'ASL e quindi non è un fatto di forza maggiore, né ma che causa è? Che causa sarebbe? Sarebbe la causa che il Napoli non ha voluto giocare? No, perché l'ASL oggi ha dichiarato che l'ASL ha detto al Napoli che non c'erano le condizioni di partire e quindi che il Napoli non sia partito per Torino perché non voleva partire non è una cosa reale secondo quello che dice l'ASL. Ora, se esistono protocolli, se esiste la salute, io mi chiedo, allora, se deve essere così, se Ronaldo deve uscire dall'isolamento insieme a sette giocatori della Juve, se ci dobbiamo ridurre a questo, ognuno faccia quel cavolo che vuole, ognuno faccia quello che vuole, perché vuol dire che i protocolli non esistono così, vuol dire che i protocolli non esistono, vuol dire sciogliere il Ministero della Salute e prevalere il calcio, prevale in questo modo alla salute ed è una cosa sbagliatissima, il calcio non può prevalere sulla salute, secondo me, anche secondo tutti voi, credo. Ora, ditemi un po', il Napoli non parte per causa di forza maggiore, adesso ha fatto ricorso, stamattina ha presentato il ricorso, se ne parla a fine mese, inizio novembre. Vi ripeto, secondo me, questo 3-0 è veramente scandaloso, è veramente scandaloso. Noi faremo di tutto per toglierci il... di mezzo, mi sta resa di tutto il pranzo, madò. Allora, noi faremo di tutto per vincere il ricorso, andremo anche al TAR, faremo anche una denuncia alla Juve, non ci interessa, ci devono togliere questo 3-0 e il punto di penalizzazione, perché il punto di penalizzazione è una cosa, questo trattamento il Napoli non se lo merita, il Napoli non merita questo trattamento, non merita di avere il punto di penalizzazione, non merita il 3-0 a tavolino. Queste cose non le merita il Napoli. Il Napoli non è potuto partire per causa di forza maggiore, punto. Il giudice Mastrandrea, non so da dove gli è uscito, è uscito che è stato cancellato il volo prima del blocco. E il volo, tra l'altro, lui è uscito, no, il volo era per domenica. Il Napoli doveva partire il sabato alle 20. Il sabato alle 20 doveva partire il Napoli. Il Napoli non si merita questo trattamento, andremo al TAR, andremo dal governo, andremo da tutti. Andiamo anche in Arabia, andiamo anche in Arabia per farci togliere questo scandalo. Perché questo noi non lo meritiamo, il Napoli non lo merita, la piazza non lo merita. E io ve lo dico, da un letto di un ospedale, inguaiato, ve lo dico, da un letto di un ospedale, inguaiato, che sto lavorando, sto cercando di seguire tutte le notizie che riguardano questo scempio, e che sto cercando di dirvi la mia. Perché ragazzi, questo trattamento, ripeto, questo trattamento, non è un trattamento che la piazza si merita. Voi cercate di trattarci così, noi, allora, facciamo di tutto. Possiamo andare in governo, possiamo andare al TAR, possiamo anche fare una denuncia penale, non ci interessa. C'è da togliere sto 3 a 0 al tavolino, ce lo dovete togliere anche il punto di penalizzazione, perché non ce lo meritiamo. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, 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 ma che ciao, ciao.